Cultura bizantina e barocco salentino, protagonisti del quinto appuntamento della sessione autunnale di Building a Puglia, costruendo l'identità della Puglia, la Puglia che scrive, che edita, che parla di sé, rassegna promossa dal servizio biblioteca e comunicazione istituzionale del Consiglio regionale. La più orientale fra le regioni d'Italia, bizantina per vocazione storico-culturale, la Puglia riscopre la propria tradizionale appartenenza identitaria ed etnica nel cuore del Mediterraneo, a Costantinopoli, da cui le vennero dati lingua, culti, arte, tradizioni, feste, e riflette tuttora quel mondo antico, come racconta Nino Lavermicocca nel suo libro Puglia Bizantina. Prendiamo il nostro dialetto barese, pochi sanno che almeno il 25% delle parole sono di origine greca, kassavun, in dialetto barese kassavun significa la lumaca, nessuno sospetterebbe che viene dal greco, viene dal greco katavaino, kassavun, quindi katavaino, colui che cammina piano piano. Perciò la Puglia si deve sentire bizantina, ma in questo senso, cioè la più vicina alle regioni dell'Oriente con cui può oggi intessere di nuovo una grande tela. Se la tradizione bizantina rappresenta ancora oggi una peculiarità della cultura pugliese, unico nel panorama artistico nazionale e non solo è il barocco salentino. La sua originalità è descritta nel libro Puglia Barocca di Mario Cazzato. A differenza di altri barocchi regionali che dipendono più o meno da Napoli, da Roma o dai centri del nord Torino o Venezia, il barocco leccese si caratterizza per la sua spiccata aderenza alla realtà culturale del luogo. Non ha soltanto una spiccata originalità, ma anche una diffusione capillare sia nei grandi che nei piccoli centri, ma anche nell'architettura rurale. Storia e arte chiudono così la decima edizione di Building Puglia, in attesa del brainstorming finale.